Il comune di Forte Remarmi e Oblong Contemporary Art Gallery di Dubai e del Forte, in collaborazione con Villa Bertelli, hanno inaugurato oggi la mostra dello scultore Antonio Signorini. Composta da opere monumentali, la rassegna vede la presenza fino al 30 settembre di numerose sculture negli spazi più suggestivi della città, tra le vie e le piazze del centro storico e lungomare. Figure sottili, eratiche, solenni, Antonio Signorini, attraverso le sue opere, racconta gli stilemi di antiche civiltà, danzatrici, guardiani, cavalli, prendono forma nello spazio dove si intersecano con raffinata armonia ed eleganza. Racconta una storia attorno all'arte, l'arte per ciascuno, l'arte che alcuni non sanno forse nemmeno di avere, cerco di raccontare un movimento, il movimento dell'arte che fa parte di ciascuna vita e quindi spero di essere in grado che il mio racconto venga apprezzato. In parallelo alla mostra, la Oblong Contemporary Art Gallery espone nello stesso periodo un ulteriore nucleo di collezione di opere di Antonio Signorini nella sede di Via Carducci a Fortelemarmi, a completamento del percorso di conoscenza delle opere e dell'artista. Veramente hanno allestito una mostra di assoluto valore, basta girare la bellezza di queste statue nella piazza, sul Via Lammare, insomma si vede che è qualcosa di importante che rimane nel paese. Antonio Signorini è un artista italiano, il suo viaggio nella vita è iniziato in Toscana dove è nato nel 71, da subito immerso nella ricca storia della regione e intriso di creatività. Secondo me questi incontri, questo attraverso è un viaggio attraverso la storia, perché attraverso la storia? L'opera di Signorini parte come un'opera classica, perché ripercorre una storia milenaria, a ritroso.